Io non gli ho ucciso Buon day, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con un ospite speciale Chi sei? Sespo Oggi scuola di prank con Sespo Andiamo tipo... Cos'è successo? Cos'è successo? Oh zio, tutto bene? Niente, oggi sveniremo tra la gente Lasciate già un bel mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale di Sespo Che trovate in descrizione E commentate con hashtag Barbutosvenuto Barbutosvenuto Un'altra cosa da dire Aveva già fatto altre clip Qui sia al Duomo che alla Rilascente Quindi vi metteremo anche quelle clip C'è di tutto Bella, regà Mi sento ripreso? Mi sento ripreso? Una foto Era un'altra cosa Buon dottima Di il genere Se la perdiremo Con spazio E con leCERI è la storia ma che cazzo io non li ho ucciso si, mi fotto le scarpe è poco fiato stretching bella raga il vlog termina qui adesso sespo si prende il treno si ritorna a roma ciao sespo morto svenuto bella raga lasciate un bel mi piace commentate con hashtag barbutosvenuto sembra piaciuto minchia se ne chiudo bella raga questo cappellino sta spesso una tragedia perchè non so se è meglio ciuffetto fuori oppure dentro si è più da quando siamo partiti che se non si steva era un prank comunque si no, avevo immaginato che aveva visto la prima c'è problema non volevo rovinare la scena però potevi investirci si 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 si